Siamo ladies and gentlemen, lei è Era Splendor! C'era un motivo per cui il mio caffè non è arrivato? E' morta perchè è luce. Dove sono luce? Ok. Lasciate acqua. Sono talmente diverse. Ti fa ridere? No, c'è vero. Sto ancora imparando tutto di questa roba. Di questa roba? Tu apri il tuo armato e scegli quel maglioncino azzurro infettrito per esempio perchè vuoi gridare al mondo che ti prendi un po' sul serio per curarti di cose che ti metti addosso. Ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapisse. È effettivamente ceruleo. E stai anche allegramente inconsapevole del fatto che nel mondo del mondo questo è un po' sul serio. 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 E poi il ceruleo è rapidamente comparso nelle collezioni di otto diversi stilisti. Dopodiché è arrivato a poco nei grandi magazzini. Alla fine si è infiltrato in un parco tragico angolo che è giocato nel 2020 e sarebbe stato nel cesto dell'occasione quindi in effetti indossi un golfino che è stato selezionato per te e tra le persone non presenti. È una zona pilota. Per tutti. 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 Stai composta, non c'è niente a me C'è un ex-equo, era Splendor! Sous-titrage Société Radio-Canada